musica 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 cosa sono quelle cose cosa sappiamo su questi esseri avevamo teorie sugli esterni da tempo ma questo è il nostro primo contatto confermato è andato benissimo speravamo di apprendere di più dal manufatto che hai perso ma ora il materiale da studiare non ci manca voglio sapere solo come eliminarli allora siamo in due carter vabbè perchè ci stanno attaccando perchè ci hanno attaccato abbiamo molte teorie e zero risposte o vengono dalla luna e non vogliono che ci arriviamo per primi non è il momento per le battute agente carter che facciamo ora possiamo stare qui prima ce ne andiamo e poi penseremo a come e contro attaccare ieri non sarà affatto facile devo mettere al sicuro le ricerche senza non avremo speranze tu nils e kinney recuperate i comandanti in sala operativa e portateli alla motrice ricevuto ok capo buongiorno uno più brutto dell'altro le presentazioni più tardi agente che cazzo vuoi te sparo eh oh qua sempre pieno sangue cosa è successo all'agente weaver si è diretta in sala operativa un po' di tempo fa non so se sia arrivata si farà viva lo fa sempre apriamo sto come apre sta porta madonna facilmente pesare una tonnellata quasi e apre con una mano laggiù nel laboratorio che stanno facendo non lo so e non mi interessa schifo portiamoci in posizione mentre sono distratti andiamo un pochetti più veloce ecco andiamo tornate da me signori raggruppiamoci qua non c'è niente no non c'è un appene allora tu mi vai tu mi fai da e mi piazzi una bella tu mi cecchini tu mi cecchini Fatelo soffrire Crepa Crepa Quello era l'ultimo Ecco fatto, muoviamoci Ora capisco perché Folk ti vuole per il bureau Carter Te l'ho detto anche io Io no, non l'ho detto nessuno Promemoria Bla 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 Non mi interessa Scusate per la tosse ma quella che ho E per la voce non tanto sexy Come va di sopra Nils? Male Abbiamo perso la base I ragazzi si ritirano Credi che qualcuno sia riuscito a uscire? Tornate da me signori Sono qui Carter Chi ha fatto questo? Non voglio scoprirlo Troviamo la sala operativa Prendiamo i pezzi grossi e ci ne andiamo Sempre che sia rimasto qualcuno da prendere Non ricaricare Eliminiamoli No Oh Non dovremmo sentirla così in profondità Allora tu Mi vai No, qua è mezza Copertura laggiù Tu mi vai Affanculo Avanzo Tu mi vai qua Procedo Procedo Sono in posizione Occhi aperti Tu Depulsi Tu mi cecchini Quello Colpitelo Duramente E tu Mi Assegni Barsaglio Lui Concentratevi su quello No Lo abbatto E' ora di metterlo a nanna Peccato Sono morti Andiamo No, il fucile non mi riesce Ricarichiamo Ok, andiamo Sì Andiamo da parte qua Sì Raggrupparsi Gente Pronti Rientro Sempre con una mano Non c'è niente Ok Scusate sempre per la tosse però C'è l'OEME Toccare a... Arrestare Comunque Andiamo avanti Questa è una specie di tutorial penso Che cosa ci facevano con l'Elerium qua sotto? Di tutto Reattori Armi Ogni genere di cose Alcune delle cose che ho visto Sembravano uscite da una vecchia serie di Capitan Thunderclap Ah Fucile non mi piace Brutto Bioccol Ah scusi Oh merda Chi è? Chi è? Chi è? Ah, ancora Apriamo la porta Apriamo la porta Grazie Carter Tornate da me signori Sono già qui Che cazzo è questa roba? Reattori all'Elerium Cazzo Puoi scommetterci? Un reattore così genera l'energia prodotta dalla diga Uber Dai la faccia Reattori all'Elerium Wow Merda Quei muri dovrebbero resistere a un'esplosione nucleare Andiamocene prima che crolli tutto Dai, apri questa porta Carter Se ce la fai Ok All'attacco Dobbiamo andare ad aiutarli Maledizioni Maledizioni Bastardo Questo è uno Al riparo Sono pronto Tu allora Mi cerchini sotto questa Colpitelo duramente Tu Mi si sposta Mezza protezione Penso io Copertura Laggiù Mi muovo E mi metto una bella torretta qua Piazzate una torretta Chiero una torretta Carter sei ferito Rialzati Ah E muori E muori Il mio coletto Vieni qua Bastardo Ora sei vivo Muori Ricarica l'arme Cartel Stavano Stavano creando bombe all'Elerium Già Bombe nucleari In croce di qualsiasi testata esistente Enormi Wow Benissimo Cosa stavano costruendo quaggiù Fabbricavano armi Non c'è limite alle applicazioni dell'Elerium Qualcosa di utilizzabile Niente A meno di portare una bomba C'è niente Andiamo C'è niente Andiamo questo passaggio Apri Apri Grazie La sala operativa è di qui Adesso Il paese Scavano Perchè? Che cosa combinano? L'edificio sta crollando Dobbiamo andarcene alla svelta Prima salviamo i pezzi grossi Poi evacuiamo Boh andiamo a andare di qua sotto per un secondo qua dai Cody Carter continuate a sparare, lo stiamo colpendo cos'è successo qui? nulla di buono, andiamo alien, state allerta elimini no voglia da cucina, non interessa riccarica, grazie arrivato generale Dims, sta bene signore? dov'è Falk? che è successo qui? faccio io le domande figliolo signore, il direttore Falk è alla piattaforma gli ordini sono di scortarla alle ore a te strada allora signore liberare il bersaglio non è Dims, è uno di loro Nils, torna qui solo un secondo capo ok è tutto oh bene perché ti hai fermata? cosa diavolo pensavi di fare? pensavo che ti ho appena salvato la vita è sparata una hai attaccato un generale pluridecorato come volevi che reagissi? possono controllarci ti entrano in testa e ti controllano Dims è morto e non c'è tempo da perdere cosa è successo agli altri pezzi grossi? erano già morti che mi dice dell'agente wow wow pensavo dovesse proteggerli l'agente Weaver sono io l'agente Weaver Angela Weaver quel bastardo infetto era già qui quando sono iniziati gli scontri no ma cosa ne ha ritrovato una dei loro fantasci mi ha assalito per quale motivo? non lo so ma ovviamente è collegato a questo attacco sono anni che seguiamo casi simili Dims era molto importante come hanno fatto a controllarlo senza che nessuno si accorgesse? per quel che ne sappiamo non possiamo sapere chi è controllato se sono arrivati a Dims potrebbero arrivare a chiunque sapevi che aveva ucciso Weaver e gli altri avresti potuto eliminarlo prima volevo farlo ma resisteva al controllo avrebbe potuto tornare in sé io ho sparato solo per impedire che uccidesse voi tre no grazie continuo a buttare io dobbiamo andarcene Falk ci ha ordinato di portare i superstiti alla motrice la motrice vi porterà solo fino alla zona di test possiamo richiedere l'evacuazione da lì resta poco tempo cercate la piattaforma e la zona di test io chiamerò uno Sky Ranger recupererò Falk e vi raggiungerò lì se non riuscite ad arrivare alla zona di test dovremo partire senza di voi va bene a dopo mi sa anche a me che hanno altri piani allora tu ti sposti no dietro a quel riparo rociado tu ti sposti qua merda alieni sulla piattaforma vado Carter che cosa facciamo? ci apriamo la strada imbracciate le armi concentratevi su quel bersaglio il bersaglio è mio abbattetelo bene ce l'ho trepa 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 morto si lo stiamo ferendo ma non è morto andiamocene da qui prima che crolli tutto quanto non c'è armi no cosa stiamo aspettando forza carter tutti a bordo restiamo qui uniti si sono qui spostati filmato è fatta ci è mancato un pelo carter qui folk arriviamo prendete la motrice fino alla zona di testa contattatemi oh no non mi piace tenetevi forte guardate qualcosa voi due reggetemi maledizione che giro che giro questa pare non va più veloce stiamo più avvi wow andiamo 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 che non se ne siano già andati ok grazie forza carter contattali e andiamocene da qui qua c'è qua c'è il cecchino qua c'è altre punizioni mi prendo dov'è? qua ci siamo ci siamo agente carter skyranger 1 vi riceve ho qui folk e la weaver e stiamo arrivando da voi non mi piace affatto quella bomba riferisci tornare alla base non sarà un problema a meno che non inizino un test giusto? in difesa portarsi al riparo sarà fatto dove cazzo va? saremo lì in un attimo no oh torna su la al riparo sono stanno arrivando di questo sono la sotto penso io dici dove schierarci carter sul posto ci sono quasi carter controlla le pulsazioni teneteli sotto pressione su che cambio continuate a sparare cazzo a o 권 i dici l'ho fortificata la zona forza Non so per quanto potremmo resistere Va bene dai Che mi stronto Che mi stronti Rialzati Ma dai Che cazzo sei Fermati, fermati Fermati, fermati Che cazzo Dai, distrutto Sono a terra Mi serve aiuto Te la caverai Grazie, stronzo Medico Arriva la cavalleria Cercate un riparo Coprimi Carter Concentratevi su quel bersaglio Sottotiro Sono qui Dai, porta, dai Alza, Carter Devi alzarti Non ti fermeranno così facilmente Grazie Ho ucciso uno Ti sono trincerati bene E muori Muori Sì, sono nostri Carter Rileviamo forze nemiche dirette verso di voi Quei bastardi non si arrendono Skyranger Quanto ci mettete a uscire dal raggio di esplosione dell'aria di testa? Raggio di esplosione? Carter, cosa? Avvierò la sequenza di testa È l'unico modo per impedirvi di seguirci E per vendicarci Sì, va bene Carter Ha ragione, signore Lo Skyranger è veloce Ma non può nulla contro quelle navi a dire Va bene Ho capito Dai Su Ok, procedi Grazie Bene Diamo a quei bastardi un bel ricordino Sì, è vero è una follia tu mettiti qua tu ho detto tu mettiti qua con calma e metti una cazzo torretta qua torretta laggiù sì signore siamo con te difendi la zona nemici in arrivo lo sky ranger teneteli sotto pressione sky ranger a carter agente carter risponda qui è carter ve la prendete comoda arriviamo salite a bordo fuori via 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 scappiamo prima che ci prendono prima che ci prendono vabbè ragazzi ci vediamo la prossima gameplay ricordatevi di mettere il pollice in su mettete anche condividete e al prossimo gameplay ciao a tutti mòlalo mòlalo Grazie a tutti.